Sì, io sono il nipote di Ignazio Giunti. Ho vissuto il suo incidente e la sua storia in maniera molto forte, perché quando lui è mancato era un ragazzino, proprio più che adolescente. Mi sono tenuto in serbo questo libro per tanti anni e ho deciso di scriverlo quando, in occasione di un evento a Vallelunga, ho rincontrato tutti i piloti di quell'epoca, Vaccarella, Nannigalli, Emanuele Pirro, che è più giovane, ma era molto legato a Ignazio, Sandro Munari. Quindi ho tirato fuori questo libro un po' di getto. Per me è un motivo di grande soddisfazione il fatto che il libro sia andando molto bene, di aver avuto un editore come Rubettino, che è un editore che è un po' la sua prima esperienza come nell'automobilismo e forse anche un po' nello sport, ma che ha apprezzato molto la storia di Ignazio in quanto tale ed è un'azienda formidabile. Stiamo facendo tante presentazioni, stiamo facendo tantissime presentazioni, c'è sempre un grande ritorno di pubblico e questo per me è un motivo di grande soddisfazione, non tanto per il libro, quanto per il fatto di Ignazio e del ricordo che è ancora evidentemente molto vivo e che è il mio libro che penso abbia aiutato a rilanciare, a rinnovare in maniera molto significativa. Grazie a tutti.